buongiorno a tutti i bambini di besana come qualcuno di voi avrà già notato sono magicamente comparse in giro per la nostra città delle cassette per le letterine da sperire a babbo natale il quale però mi ha chiesto straordinariamente quest'anno una cosa del tutto particolare cioè ha chiesto un regalo a voi praticamente ci ha chiesto se potete mettere insieme alle vostre letterine per i regali di natale anche un pensiero un augurio o anche un astoriello qualsiasi cosa vi venga in mente da portare a chi a delle persone che negli anni passati hanno pensato aiutato babbo natale per tanto tempo sono i nostri nonni che sono nelle nostre case di riposo e si è impegnato lo stesso babbo raccogliere le vostre lettere i vostri pensieri i vostri auguri e portarli direttamente questo perché perché pensiamo che possa aiutare i nostri nonni a vivere qualche ora spensierata durante queste feste e a respirare un pochino di più il clima natalizio che si vive fuori perché quest'anno avranno meno possibilità di incontrare i loro parenti e loro amici rispetto al passato è un'idea che è venuta innanzitutto a babbo natale ma è stato aiutato dagli elfi dell'associazione bestò e alla quale la nostra amministrazione comunale ha aderito davvero con tanta energia quindi vi chiediamo se avete voglia di portare in queste cassette delle lettere e mettiamo nel primo commento sotto questo video esattamente dove sono ubicate la vostra letterina per babbo natale insieme anche un piccolo pensiero che ci impegniamo poi con babbo a portare nelle nostre case di riposo e sicuramente i nostri nonni aspettano questi vostri auguri grazie a tutti e ci risentiamo per le prossime iniziative di natale grazie a tutti Grazie a tutti